I titoli del nostro notiziario L'uragano Irene sta lasciando gli Stati Uniti Il clima del nostro pianeta sempre più anomalo Sempre molto radioattiva la zona di Fukushima A Alicata la Madonna piange lacrime di sangue La Germania è decisa a lasciare il nucleare I 40 anni di TVC per Capodistria Vittoria del Gracciano al bravio delle botte di Montepulciano Manifestazione in Piazza Ferretto a Mestre il 1 settembre Lo sport atletica, ottavo posto per l'italiano Nicola Vizzoni Nella finale del martello Buonasera, benvenuti alla prima puntata Del primo notiziario di Pianeta Oggi TV Ecomondo 2000 Che vuole essere una finestra nel mondo Su quanto sta accadendo dal punto di vista ambientale e sociale Visto che la situazione non è delle migliori Pianeta Oggi TV vuole essere insomma un piccolo osservatorio Ed ora veniamo alle notizie L'uregano Irene sta lasciando gli Stati Uniti È stato declassato a tempesta tropicale Però alle spalle ha lasciato uno scenario veramente drammatico Si registrano milioni di americani senza energia elettrica 46 persone morte Danni che ammontano a circa 7 miliardi Polemiche nei confronti del sindaco di New York Per troppo allarmismo Il quale ha subito risposto che non abbiamo voluto mettere a repentaglio La vita di nessuno Un'estate questa del 2011 Sempre più anomala in Italia Ma non solo Si sono registrate temperature spesso settembrine Solo nel periodo di ferragosto Si sono alzate notevolmente Oltre la media stagionale Insomma si è passati da un estremo all'altro C'è veramente da chiedersi come mai Queste anomalie sempre più frequenti La nostra emettente sta osservando questo pianeta E registra un uomo che sta inquinando la propria casa La madre terra Inquinandola in tutti i modi Ad esempio dallo smog Queste città che sono praticamente avvelenate Alla radioattività Vede i Chernobyl, Fukushima Tutti i test I migliaia di test atomici Che sono stati fatti nel passato Poi ricordiamo anche il caso Quirra In Sardegna ne ha parlato molto la televisione Eccetera Dico eccetera perché poi l'elenco potrebbe continuare E anche molto a lungo purtroppo E in pratica si è sempre voluto ignorare Sistematicamente quelle che sono le energie rinnovabili Ecco poi spiegati i casi in aumento di tumori Degli abitanti del pianeta Altro che destino E qui ci sono delle responsabilità ben precise I tumori adesso hanno anche un volto Insomma sembra che l'uomo di questo pianeta Abbia fatto un patto con il demonio E non con Dio Insomma siamo di fronte ad una scienza senza coscienza Sembra radioattiva la zona di Fukushima in Giappone Proseguiamo con il nostro notiziario La TEPCA ha rilevato materiale radioattivo nell'acqua di mare Lo ha riferito l'agenzia Chiodo Il livello radioattivo è aumentato notevolmente in tutta l'area vicina alla centrale nucleare Secondo quanto ha affermato il Ministero della Scienza e della Tecnologia di Chiodo I nuovi alti livelli di iodio e di cesio radioattivi Sono stati rilevati in 47 prefetture Tra cui quella di Chiodo a 240 km a sud della centrale Intanto una nota positiva La Germania ha deciso di accelerare l'addio al nucleare Lo ha detto il Ministro dell'Ambiente evidenziando che i rischi residui dell'atomo sono troppi Italia A Licata una madonnina piange lacrime di sangue Ne dà notizia a gregentoflash.it Dove spiega che la lacrimazione sarebbe in corso dal 23 agosto Si tratta di un quadro ad olio raffigurante La Madonna del Riposo con il braccio di Gesù Bambino I proprietari del quadro, Giuseppe e Giovanna Amato Hanno notato lo strano fenomeno Chiamando il parco Totino Licata della chieda di San Giuseppe Maria Tommasi Che ha potuto assistere lui stesso a questo fenomeno Rimaniamo sempre in Italia Indagato dalla Procura di Roma L'ex Ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scaiola Per violazione della legge sul finanziamento illecito dei partiti Ci spostiamo nella vicina regione dell'Istria La notte storica TV Cooper Capodistria ha compiuto 40 anni La prima TV a colore in Italia e con un ottimo segnale tecnico A tutt'oggi rappresenta una valida alternativa Nello scenario mediatico italiano A tale proposito vi ricordo che è possibile ricevere Questa emittente internazionale tramite il satellite Hotbeard Vediamo dunque il primo servizio Un operato che è diverso, sostanzialmente diverso Molto diverso da quello che uno magari può seguire Sulla sua TV nazionale In Slovenia, Italia o Croazia Sulla sua emittente locale O sui vari programmi commerciali Siamo sempre come dire Vogliamo essere un emittente in controtendenza Quindi una risposta Se possibile intelligente A quello che è la TV TV commerciale o anche tra virgolette TV spazzatura Noi al giochino in TV Al quizetto con tanti premi Offriamo in cambio un documentario Un approfondimento In orari più consoni a guardare la TV Anche in Italia per esempio Sono molti emittenti La RAI eccetera Che fanno degli ottimi programmi di approfondimento Però questi qui vanno in onda molto tardi Magari la notte E queste un po' sono le nostre scelte Logicamente puntiamo molto anche sulla divulgazione Sui documentari Sui prodotti che magari un po' insegnano Fanno capire le cose Mi sembra questa la cosa fondamentale E questa è la strada su cui anche proseguiremo Quindi questo asse di programma Che va dall'informazione all'approfondimento Alla cultura, all'arte Un elemento, una nostra offerta molto importante Già che riteniamo che l'arte comunque sia Un po' penalizzata dalle altre televisioni Mette sui nostri tre schermi Trova spazio Dicevo dei documentari Della divulgazione Di un intrattenimento magari intelligente Per vedere Magari far vedere un bravo artista Un bravo musicista Sentire le opinioni La sua visione magari delle cose Ecco quindi Quindi potremmo dire In battuta Direttore Un suggerimento al telespettatore Di rinnovare un po' il suo telecomando Portiamo TV Capodista nei primi tasti Portiamola Portiamola Per noi sarebbe un grande piacere E forse anche un riconoscimento Per quello che stiamo facendo Ci sono molti telespettatori Che seguono In questo momento c'è il problema Di questo passaggio digitale terrestre Ma credo che verrà superato L'alternativa Logicamente Sceglie anche TV Capodista Su satellite Quindi TV Capodista È visibile Su hotbird 13 gradi est Ed è inclusa anche Nella piattaforma Satellitare italiana TVSat Quindi Dopo tanti anni Effettivamente TV Capodista È tornata a pieno titolo Anche se Su TVSat In questo momento Speriamo che si sviluppi Tornata quindi A pieno titolo in Italia Grazie Grazie Complimenti Da Capodistria A Mestre Per parlare Di un importante appuntamento Di giovedì Primo settembre 2011 A partire Dalle ore 18 In Piazza Ferretto Che si terrà Una manifestazione Contro le patte Di Tesserra Per chiedere chiarezza Sulla impressionante Cimentificazione E mercificazione Del territorio Prevista a Tesserra Ed intorni Siamo nella zona Praticamente Dell'aeroporto Marco Polo Di Venezia Il comitato Lagatti Di Favaro Veneto Venezia Insieme ad altri numerosi Comitati Ed associazioni Saranno presenti E come passo successivo Li vedremo al Parlamento Europeo Per chiedere l'intervento Della Commissione Pedriti Del Cittadino Ci spostiamo Ora A Montepulciano Siamo in provincia Di Siena Un po' Come dire Una seconda casa Per Pianeta Oggi TV Grazie alla Stretta collaborazione Con Teleidea Di Chianciano Terme Ricordo che Proprio Domenica scorsa Abbiamo trasmesso In diretta streaming Una nota Manifestazione Folcloristica Nota Anche a livello Internazionale Che attira Molti turisti Mi riferisco Al Bravio Delle Botti L'edizione 2011 Dunque La telecronica La telecronica è stata Fatta da Diego Mancuso Storico Conduttore Del Bravio Insieme a Chiara Lanari Giornalista Di Teleidea Abbiamo visto La vittoria Del Graciano E a seguire Le coste Talosa San Donato Poggiolo Cagnano Sentiamo Cagnano E poi anche I collazzi Quindi Voltaia Noi abbiamo raggiunto In Piazza Grande Il giorno prima Della manifestazione Proprio il sindaco Di questa città Andrea Rossi Sentiamo alcune considerazioni Può partire il secondo servizio Senz'altro Si ripete L'evento Ormai Da oltre 30 anni Però ogni anno C'è sempre qualcosa di nuovo C'è comunque Il tentativo Da parte delle contrari Dei contrarioli Del magistrato Dei contrari Di perfezionare L'iniziativa E ogni anno Abbiamo cercato Di coniugare Anche delle innovazioni Con la tradizione Del bravio Quest'anno Abbiamo per esempio Ieri in conferenza stampa Presentato un'applicazione Per iPad iPhone Che è scaricabile Dal sito dell'Apple Store Gratuitamente È un po' L'applicazione Del comune Montepulciano Ufficiale È una sorta Di cartolina Con cui vogliamo Invitare I cittadini del mondo A venire a Montepulciano Questa è un po' La nostra idea A quella abbiamo collegato Poi il QR Code Un'altra iniziativa Importante Con cui Chi viene a Montepulciano Può con i propri smartphone Per esempio Visitare la città E avere informazioni Su tutti i monumenti Del centro storico Di Montepulciano Gratuitamente Quindi Un'iniziativa Il bravio 2011 Che ripeto Porta avanti Le tradizioni Porta avanti Naturalmente L'agonismo Della corsa Della domenica Insieme a delle piccole novità Che comunque tendono A legare sempre di più Questo evento Come un evento Che è anche Di valenza economica Per l'economia Di Montepulciano In quanto Attirerà Montepulciano In questa settimana Senz'altro Qualche decina Di migliaia Di presenze Di turisti Concludiamo Con una notizia Di sport Atletica Nicola Vizzoni Arriva all'ottavo posto Nella finale Del martello Loro va Al giapponese Murofugi L'argento All'ungherese Pars E il bronzo Allo sloveno Cosmus Prima di chiudere Ancora una notizia Che riguarda La nostra Emittente Online Pianeta Oggi TV In modo particolare Faccio riferimento Al nostro Speciale di approfondimento Pianeta Oggi Report Che come sapete È venuta in collaborazione Con Teleidea Di Chianciano Terme Poi anche con Teleianto Di Palermo Adesso verrà Trasmesso Sempre a frequenza Settimanale Sulle frequenze Indicità del Terrestre Del Veneto Attraverso L'emittente televisiva Della provincia di Treviso Eden TV A tale proposito Corro l'occasione Per salutare Anche i colleghi Della redazione Giornalistica Di Vidor È veramente tutto Pianeta Oggi TV È la vostra linea diretta Con l'informazione Buonasera Della provincia Carro l'occasione Dioletio Della provincia Dioletio Chiari Dr. Dioletio Che Chiamo Grazie.